signore e signori traders ed investitori buongiorno e benvenuti all'intraday club analisi contesto e pre market mercoledì 28 giugno anche oggi insieme per analizzare i principali sottostanti americani e farci trovare pronti al suono della campanella delle 15 e 30 come sempre partiamo con il recap della seduta precedente per quanto riguarda sia il future dello standard impur che per quanto riguarda il future del nasdaq entrambe su scadenza di settembre su est segnaliamo 1.63 milioni di scambi e una volatilità tra minimo e massimo di 21 punti come vedete già dai numeri c'è stato un incremento sia della volatilità che dei contratti scambiati gran parte di questi contratti sono stati scambiati nella seconda parte di mercato infatti nella prima parte abbiamo visto un titolo che non dava particolari indicazioni né rialziste né ribassiste avevamo valutato a rialzo una nella puntata di ieri uno short in area 37 50 ma come vedete il titolo è arrivato a mezzo punto e dal rappresentato anche il massimo di giornata quindi non siamo stati eseguiti la seconda operazione invece che si è verificata nella fascia serale perché erano già le 19 e 35 quindi a ridosso quando stava già parlando la jelen uno short a 28 50 vedete che c'è stata una leggera reazione fino in area 30 ma poi il titolo è venuto giù e venuto giù in maniera particolarmente importante da lì si è innescata un po la seconda parte di mercato e dopo un tentativo di recupero il mercato è andato a chiudere sui minimi di giornata in area 17 e 75 per tutti coloro che tradono invece modalità passiva con il t sniper e le nostre soglie hft segnaliamo il gain di down a che era in area 24 barra 25 che ha dato due punti di gain quindi il massimo gain da statistica passando invece al nasdaq anche qua volumi e volatilità è un aumento 403 mila scambi e 96 punti tra minimo e massimo anche in questo caso seduta bene o male simile a quella dello standard impur anche in questo caso nasdaq che si rivela più debole e fa sempre un pochettino più fatica a ritrovare i valori vicini massimi storici come invece ce l'abbiamo su s&p nessuna operazione per quanto ci riguarda all'interno dell'intraday di ieri quindi un nostro 3 dog vuoto da ieri passiamo ad oggi come sempre analisi contesto pre market per una giornata che sarà tutt'altro che tranquille infatti alle 15 30 come vedete parla praticamente il mezzo mondo in termini finanziari ci sono diverse conferenze draghi ovviamente su su tutti e questo porterà sicuramente un po di nervosismo e un pochettino di volatilità come vedete anche dall'orario un orario piuttosto scomodo perché proprio in concomitanza con l'apertura del mercato americano come sempre alle 16 30 come ogni mercoledì scorte di petrolio che anche in questo caso potrebbero portare un po di volatilità visto come si sta muovendo il petrolio nelle ultime settimane ma è anche a ridosso della nostra ora di trading quindi non dovrebbe interessarci più di tanto quindi le proiezioni operative per la giornata di oggi diventano piuttosto articolate però come sempre andiamo a fare una visualizzazione di quello che è stato l'andamento del nostro titolo dalla mezzanotte a oggi scusate ad ora sessione asiatica come vedete piuttosto tranquilla con un mercato che resta piuttosto debole e sempre a ridosso dai livelli di chiusura con l'apertura del mercato europeo non tanto subito ma a metà mattinata c'è un leggero ulteriore movimento ribasso che hanno portato il titolo fino in area 13 75 che ancora il minimo di giornata da lì una lenta ma inesorabile ripresa che non solo siamo alla ricerca del giusto prezzo ma proprio una seduta che ha preso una piega positiva da segnalare anche una sorta di piccola anomalia proprio successa pochi minuti fa in cui un po tutti i mercati hanno avuto un'esplosione di piccola esplosione di volatilità e guardate anche lo standard impur nel giro di due minuti è passato da una zona di lateralità in area 23 a toccare quasi area 30 dove bene o male si ritrova anche adesso e presumibilmente andrà ad aprire quindi che proiezioni possiamo fare per tutti coloro che intendono tradare dalle 15 30 alle 16 e 30 a differenza degli altri giorni le conferenze che avevo visto poco fa porteranno sicuramente un po di volatilità e tanta tanta speculazione quindi non me la sento di darvi dei riferimenti precisi perché non riuscirei ad essere preciso visto che l'incognita è veramente alta affidiamoci alle 15 30 le soglie degli hft vediamo un attimo che scenario la tecnologia ci andrà a definire che è probabile anche che ci sarà un semaforo rosso come sempre perché decide di operare indiscrezionale lasciate passare i primi in questo caso 15 minuti vedere un attimino il mercato come si struttura e da lì andate ad agire secondo le consuete regole che vediamo all'interno dell'intraday club e per chi non conosce può andare a trovare all'interno della nostra area privata nella sezione corsi di trading in ogni caso seguirò con attenzione il mercato quindi alle 19 15 andremo ad approfondire e vedere esattamente cosa è successo nel nostro summer trading club di cui trovate anche il link in descrizione io comunque cercherò qualora ci sia l'opportunità di effettuare la mia operatività quindi adesso entro in modalità zen mi preparo per l'apertura del mercato e ricordo sempre che i guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra i guerrieri sconfitti prima vanno in guerra e poi cercano di vincere scegliamo di essere vittoriosi buona giornata e buon trading da stefano corvi ciao